Musica Buonasera e ben ritrovati, è tutto giusto, lo so che siete abituati insomma all'appuntamento di mezzogiorno però lo sapete anche che noi abbiamo degli spazi a questo punto della serata, spazi che precedono l'informazione e quello del giovedì diventerà proprio un appuntamento fisso, sono lieta di dire che avremo un appuntamento fisso di settimana in settimana con insomma un ospite che ben conosciamo, mi auguro che molti di voi lo ricorderanno altrimenti voglio presentare per tutti quelli che accendono il televisore in questo momento e non l'avessero mai visto insomma il professor Giuseppe Perona a cui do un bentornato amichevole Buonasera professore Buonasera Roberta Ci diamo del tu Come ci siamo lasciati noi riprendiamo Come ci siamo lasciati, mi sembra giusto Allora, lei ci terrà compagnia, sono felice, saranno 8 o 9? 9 9 le settimane in cui ci vedremo, l'appuntamento fisso del giovedì Innanzitutto sono un po' di mesi che non ci vediamo, com'è andata l'estate? Benissimo, come tutti gli anni sono stato in Africa e quindi benissimo E allora, se dobbiamo adesso parlare un po' delle sue vacanze lo facciamo anche perché in realtà in queste vacanze si è sposato un progetto relativo al suo lavoro non l'ho fatto, voglio ricordarlo adesso insomma, chi l'ha riconosciuta si ricorda sicuramente che è responsabile del reparto di oculistica di Villa Prica E dunque, perché l'Africa, professore? Cosa succede quando lei va in Africa? Ma quello che è successo è successo già da anni Ti innamori dell'Africa, tutto nasce per caso nel 98-99 a tavola con degli amici in una serata passata in compagnia dove salta fuori il nome di Fra Fiorenzo mi incuriosisco e vengo a sapere che in Africa, in Togo e Benin esistono due realtà ospedalieri dell'ordine religioso Fatebene Fratelli dove manca l'oculistica E da lì è stato subito un amore era un vecchio desiderio coltivato sin da ragazzo quello di rendermi utile al prossimo anche per rendere quello che la vita ha donato a noi e poi la mia vita è stata anche all'insegna di esempi importanti come quello del professor Spallino che già ai tempi andava in India e quindi ho deciso di realizzare questo progetto Abbiamo messo subito in pista un container vedete qui le foto del primo container che sono arrivate ad Afanyan nel Togo E' il primissimo del 98-99 99, questo è un container del 99 E cosa ha portato? Tutto necessario per un'oculistica molto rudimentale allora perché era la nostra prima esperienza quindi un microscopio operatorio l'occorrente per fare della chirurgia e delle visite oculistiche in una realtà così povera come vedete ben illustrate da questa immagine che la regia gentilmente manda in onda E lì nasce un amore nasce un amore e soprattutto nasce un progetto nasce una promessa che è quella di realizzare in Africa una sanità un'oculistica nel mio caso specifico che potesse dare un contributo ad alleviare le sofferenze di queste persone meno fortunate di noi Questa fotografia è... Questa è una foto molto importante Sì quella lì e magari se la regia gentilmente la rimanda in onda quella è una foto molto importante perché è una foto di un monumento importantissimo è la porta del non ritorno e praticamente il punto dove venivano imbarcati gli schiavi durante il periodo della schiavitù quindi è un posto molto suggestivo che fa nasce delle emozioni importanti Chiedo questo nel senso lei anzi tu ci hai spiegato appunto che insomma mancava il reparto dell'oculistica in questi due ospedali Immaginiamo che anche le patologie relative all'occhio che incidenza hanno? Cosa hai trovato quando sei arrivato? Lì ho trovato patologie che qui non ero abituato a trattare cataratte complete tumori importanti cataratte pediatriche bambini con cataratte cose mai viste qui in Italia ormai sono scomparse perché lì non esisteva assolutamente la prevenzione la diagnostica in questi villaggi dove siamo arrivati noi praticamente era tutto da costruire ed è stato molto molto bello costruire in una sfida così importante ci siamo presto reso conto che la realtà era drammatica intorno a noi prima avete visto le foto di un villaggio che è un villaggio palustre dove praticamente i bambini fino ai 5, 6, 7 anni non riescono a camminare perché è tutto su palafitte la gente vive lì però ci ha impressionato anche lo spirito di queste persone guardate questa foto che secondo me è molto molto bella di come sanno nella loro povertà trovare l'energia e le risorse per poter star bene in qualche modo e stanno bene stanno benissimo molto meglio di noi quindi dal 99 ad oggi tu insieme ad altri medici questa foto dice cosa è stato fatto questo è il nuovo blocco operatorio questa è la zona sterilizzazione ed è stato molto bello in questi 14 anni vedere questa cosa crescere pian pianino pian pianino fino ad arrivare ad avere delle sedute chirurgiche come quelle che vedete indicate in questa immagine è un foglio con ben 11 11 interventi di cataratta tutte cataratte complicate intumescenti traumatiche forse neanche in Italia si fanno queste sedute chirurgiche noi lì le facciamo con molto entusiasmo e molto piacere quest'anno vedete in questa immagine abbiamo avuto la possibilità di avere il nostro ospite il ministro per i diritti umanitari che ci ha portato il marito da operare e questa è stata una cosa molto importante è soddisfacente questo è un risultato ottimo è un risultato ottimo perché in genere venivano qui in Italia a operarsi i personaggi più più in vista del territorio invece quest'anno proprio perché siamo riusciti a costruire un'oculistica d'avanguardia di un certo livello abbiamo iniziato a operare queste persone sul posto e quindi è stato molto molto bello vedete la sala operatoria oculistica nuova so che nell'immagine precedente nella fotografia precedente appunto dove stava operando il marito del ministro ecco qui tra poco lo rivedremo insomma utilizzate della carta tu mi spiegavi prima no utilizziamo ecco in questa immagine si vede perché non sempre abbiamo tutto l'occorrente perché riusciamo a portare sempre tanta roba però dobbiamo utilizzare tutto quello che ci carica questo ad esempio come teleoperatorio in questo caso viene utilizzata la carta in cui sono contenuti i guanti è un'arte non si butta via niente la mia napoletanità mi è servita moltissimo in Africa l'arte di arrangiarsi mi è tornata molto utile cosa avete portato a casa in tutti questi anni insomma è un'esperienza che è partita nel 99 l'abbiamo capito continua ad andare avanti un progetto che si alimenta penso che non stiate dando solamente un ottimo contributo dal punto di vista delle cure mediche riportate a casa anche voi qualcosa perché tu mi dicevi il lato umano che poi si vive in quei momenti in cui siamo in Africa è qualcosa di impagabile l'Africa mi dà la possibilità di fare il medico così come ho studiato col cuore senza dovermi preoccupare della burocrazia senza dover minimamente accettare la medicina difensiva dove devo preoccuparmi solo del malato della patologia devo dar devo tirar fuori le mie capacità la mia preparazione per il bene del malato e questo ti dà un ritorno che è meraviglioso ecco in Africa io faccio veramente il medico così come ho sempre sognato di farlo compassione assoluta arrivano adesso altre fotografie a te particolarmente care perché proprio un po' sulla scia di quanto ci siamo appena detti tra gli incontri forse che lasciano di più anche perché sono pazienti direttamente ci sono i bambini ma quelle lì sono qualcosa che ti rubano il cuore sono bellissime sono ruffiani hanno un sorriso diverso dai nostri figli perché è un sorriso colmo di felicità sono sempre felici i nostri figli tante volte ingiustamente impropriamente si lamentano di tutto e di tutte qui i bambini sono sempre contenti e questi sono tre fratellini ad esempio tutte e tre che è un cataratta bilaterale questi erano tre fratellini che arrivavano dal Burkina Faso avevano fatto 1200 km per arrivare da noi quindi vi raggiungono anche da lontano sì perché lì non esiste la televisione non esistono tante cose ma il tantam è un qualcosa di meraviglioso l'Africa è un continente che cammina veramente e questi fratellini sono stati operati sono stati operati tutte e tre con cataratta congenita purtroppo per denutrizione questo ma lì ci sono vari fattori c'è un fattore congenito poi c'è anche l'aspetto alimentare che sicuramente incide arrivano delle fotografie adesso insomma con un bambino un po' più speciale degli altri sì ma sono tutti speciali basta vederli sono bambini a cui sono affezionato sono legato sono bambini per cui durante tutto l'anno preparo i pacchettini da portare che poi non c'è bisogno di portare chissà che cosa basta un pennerello basta un quaderno basta veramente una bicicletta lì quando sui container mettiamo qualche bici in più è una festa è una festa indescrivibile quanto tempo ci passi quando tu vai in Africa due o tre settimane tutte perché servono perché i pazienti sono sempre tanti da operare e poi diciamo che è anche piacevole e ci credo e quando invece torni in Italia perché l'abbiamo ricordato sei responsabile del reparto di oculistica Villa Prica invece quando ritorni giù chi lasci? abbiamo addestrato una figura parasanitaria lì che fa il lavoro grosso quello di selezionare un po' i pazienti di seguire i pazienti devo dire che in questo progetto poi si sono affiancati un'equip di spagnoli un'equip di francesi che a turno vanno ad Affagnanna professore adesso ci sono praticamente due realtà due ospedali come ci dicevi completi perché grazie a voi si è aggiunto anche il reparto di oculistica anche quindi nel tuo settore si sta lavorando per la prevenzione si riesce a farlo cerchiamo di farne cerchiamo di andare nei villaggi cerchiamo di stare insieme ai bambini di giocare con loro ecco questi qui sono una squadretta di calcio che abbiamo messo insieme io non gioco più perché due anni fa nel giocare con loro ho rotto il tendine di Achille mentre erano in Africa quindi ho deciso di non giocare più però di dargli una possibilità di divertirsi ancora di più quindi organizzarli con delle magliette delle scarpette dei pantaloncini e quindi abbiamo costituito questa squadretta di calcio che serve un po' ad alleviare in qualche modo le sofferenze che questi ragazzi devono affrontare giorno per giorno non per loro colpa ma solo perché sono nati in un paese meno fortunato professore ci manca un minuto e poi dovremo salutarci insomma quello dell'esperienza in Africa mi sembra che sia un capitolo veramente importante sia per la sua vita come uomo per la tua vita sia per la tua professione insomma direi questo è stato un ottimo punto di partenza e ti ringraziamo perché è una realtà che ci fa bene al cuore conoscere adesso seguiranno altre otto otto incontri parleremo di patologie specifiche dell'occhio cercheremo di dare dei consigli utili ai nostri ascoltatori per una prevenzione di alcune patologie per una terapia dare delle indicazioni che siano valide e che siano di aiuto per la salute degli occhi professore ci è rimancato dopo tutto l'anno scorso ci avevi un po' portato per mano adesso abbiamo il piacere di ritornare in tua compagnia sarà l'appuntamento fisso del giovedì intanto ti ringrazio tanto ringrazio Giuseppe Perone che è stato con noi grazie Roberta e ora noi ci fermiamo una pausa e come sempre è rinnovato però l'appuntamento con il professor Perone a giovedì prossimo arrivederci a giovedì prossimo